Allora, scusate, scusate, però, andate, fermate, noi parliamo, allora ti dico una cosa, ci ha mangiato oggi, allora sai che faccio, parlo un po' di quello, tu hai fatto vacanza quest'anno, no hai fatto un tour, hai sgovato, allora parlo io del mio, del mio viaggio a New York, viene il frattempo, tento di sistemare, tu sistemati il viaggio a New York, Viaggio del parlo di New York, perché sto bene, allora, volevo dire a tutti che io ho cantato con un vero goro gospe, goro gospe, goro gospe, si, niente, non vi posso dire manco questa, ciao, Questo è mio? Non ce lo troverò qua? Ok, allora, grazie, serietà, a proposito di incontri, incontri musicali, siccome questa è la tua serata, anche se gentilmente hai voluto trascinarmi in questo viaggio vieni qua, fidati, stai serena io ho voluto farti una sorpresa una sorpresa musicale aspettami qui vado a prendere questa sorpresa che è una sorpresa per te, per me ma credo anche per un'Italia intera perché è una persona che ha dato un grandissimo contributo alla musica e ancora lo continuo a dare signori e signore Pino Pecchè grande Pino questa è una roba sicuramente ho sentito che parlavano, grazie, buonasera grande Pino questa è una roba sicuramente questa due bellissima ragazze noi intanto ci accomodiamo non è la roba sicuramente questa due bellissima ragazze non è una roba sicuramente questa due bellissima ragazze